buongiorno a tutti popolo di youtube ciao a tutti Fuzgero88 Viglio 36 Bancomatti allora oggi vi portiamo una promo Carrefour Nivea esclusiva Carrefour esclusiva Carrefour legata alla Nivea Nivea Polaroid perfetto perché uno si compra e l'altro si vince ok alla grandissima allora adesso ci spariamo immediatamente in alto e da qui vi illuminiamo su questa grafica con la grafica esatto con la grafica su questa promo vai Miki alluminaci ragazzi questa promo qua come vi dicevamo è un'esclusiva Carrefour valida anche nei Carrefour Market e Carrefour Express tutte le Carrefour Iper quelli grossi perfetto comprando due prodotti della marca Nivea è importante che uno sia linea viso potete giocare i dati dello scontrino al seguente numero allora chiaramente uno scontrino tutto in uno scontrino sì 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 tutto in uno basta andare basta chiamare allora il seguente numero è 0236265441 se riusciamo ve lo facciamo anche comparire in modo che almeno ce la mette sempre a video e ve lo potete segnare tranquillamente e questa promo va dal? dal 15 aprile al 30 maggio perfetto tutto maggio in poche parole sì tutto maggio esatto un bel po' di tempo avete per poter procedere con questa prova il bello che con questa prova si vince è una stampante della Polaroid collegabile ai telefonini di tablet a tutti i vari dispositivi che ci permette di stampare le varie stupidative perfetto e il bello è un prodotto comunque che ha il suo bel costo assolutamente io non me lo sarei mai comprato assolutamente ma va per culo proprio no è bellissimo anche come regalo che inserino ci sta e allora c'è da dire un'altra cosa poi guarda ci sono delle esclusioni nel senso che Nivea ok però non è che tutti i prodotti Nivea sono utilizzabili per questa prova allora le esclusioni sono le mini taglie le maschere e le saponette ok per chi non lo sapesse le mini taglie sono si quelle da piaggia quelle cose le mignose il fumio delle robe cioè giustamente si fanno partecipare al concorso ma qualcosa glielo devi dare esatto noi abbiamo fatto una partecipazione abbiamo trovato la crema in offerta 7 euro di scontrino esatto e quindi abbiamo fatto con poco diciamo che sono prodotti che comunque bene o male servono soprattutto con l'arrivo dell'estate qualche crema solare qualcosa bene o male esce sempre fuori quindi tentarlo l'utilizzi l'utilizzi sempre esatto io direi che non c'è nient'altro facile dire è facile semplice semplice lineare lineare senza molte senza molte robe da vai faccio di scoprendo eccetera eccetera quindi direi che dopo queste mille parole al secondo che ho detto vai 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 la riparola la riparola la riparola è fatta e dopo il mio magico rap vai comunque c'è il ragazzo ciao a tutti link in descrizione mi raccomando spolliciate come al solito visual e un grandissimo saluto di nuovo a tutti ciao 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 Grazie a tutti